Complici anche la bella giornata di sole, fuori i cancelli della scuola elementare 25 aprile di Bassano, si respira ottimismo e fiducia. Era giusto ripartire dopo tanti mesi, insomma anche i suoi figli contenti di rivedere i compagni o anche un po' preoccupati? Sì, una che l'altra. Sì, erano preoccupati ma anche contenti dopo tutti questi mesi che sono stati a casa. Giusto ripartire, i bambini hanno bisogno di andare in scuola e di stare con i compagni perché comunque la socializzazione è istruttiva anche quella. Insomma si riparte con quale spirito, con quali raccomandazioni? Beh, l'igiene, l'attenzione, però sono contenta perché mi sembra che le scuole sono organizzate. Questa mattina più preoccupata o più contenta che la scuola sia ripartita? Molto felice e anche fiduciosa nella sanità e nella scienza. Le buone intenzioni e sensazioni dunque ci sono tutte, anche se resta per il momento il problema di accompagnare e andare a prendere i bambini alla fine delle lezioni. Conciliare scuola e lavoro non è facile per i genitori e chi ha la fortuna di avere i nonni ne approfitta. Quello è una grande difficoltà, soprattutto per chi ovviamente lavora come me, si organizza magari con i propri familiari, è difficile sia effettivamente quello, però si deve fare e si fa in qualche modo. Con il volo diventa sempre difficile, però per i bambini si trova sempre il tempo e allora un po' uno, un po' l'altro, un po' ci aiutano i nonni, un po' si chiude prima e quindi si vengono a prendere anche i bambini. Vito la scuola!